Buongiorno Fagnano, è più di una settimana che sono diventato sindaco del nostro Paese e questo è il primo video ufficiale che utilizziamo per informare la cittadinanza e per fare una specie di incontro online con tutti voi. Cosa facciamo in questo video? Facciamo tre annunci. I primi due riguardano il Consiglio Comunale. Sabato sera alle ore 20 nella Sala Consigliare ci sarà l'insediamento del nuovo Consiglio Comunale dei Ragazzi, alla presenza anche del Consiglio Comunale degli Adulti. Subito dopo alle ore 21 sempre in Sala Consigliare, ma lo si potrà vedere anche sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del Comune, il Consiglio Comunale di insediamento della nuova amministrazione. Siete tutti invitati per poter partecipare e vedere e assistere al Consiglio Comunale. Il terzo invito che vi faccio è dedicato a questo, al libro di Carolina Castiglioni che verrà presentato il 17, ovvero domenica alla Prodo Calipolis alle ore 15.30. È un libro molto interessante che racconta la storica ostetrica di Fagnano Lona. Anche qui vi aspettiamo numerosi. Alla prossima!